L'assessore dei servizi sociali del Comune d'Imperia, Luca Volpe, ha fatto sapere che anche nel corso dell'emergenza coronavirus vengono mantenuti i servizi che il Comune svolgeva già in precedenza a sostegno di anziani e disabili, salvo che i diretti interessati li rifiutino per evitare il contatto diretto con persone esterne al nucleo familiare, come è accaduto in alcuni casi. Volpe ha anche evidenziato che il centralino del Comune, che risponde al numero 01837011, è a disposizione di quanti avessero bisogno dei servizi sociali per il sostegno a categorie deboli, ivi compresi, servizi quali la consegna di spesa e medicinali a domicilio. È stata inoltre attivata anche in questi settori la figura dei custodi sociali, vale a dire personale delle cooperative che già svolgono servizi per conto dell'amministrazione comunale e che ora sono stati impegnati appunto per l'assistenza ad anziani e bisognosi.